pole position, pole position, pole position, 1, 42, 519 la pole position del monegasco Charles Clerc su Ferrari riesce a conquistare questa pole position a Spa-Francorchamps e domani alle 15.10 vedremo partire sullo starting grid di Spa-Francorchamps due rosse però ragazzi 7 decimi e 48 millesimi il distacco fra Leclerc è il primo degli altri il suo compagno di squadra Sebastian Vettel good afternoon guys secondo video di giornata ragazzi benvenuti cari video ascoltatori su questo post qualifiche del GP del Belgio del 2019 ragazzi pole position per Charles Clerc, ritorno col botto dopo la sosta estiva per quanto riguarda i colori della rossa con un Hamilton che ha avuto la fortuna di fare la qualifica perché era andato a muro in FP3 a causa della rottura del motore di Robert Kubica che ha causato alla fine c'è la bandiera rossa nella Q1 è riuscito a fare purtroppo la qualifica l'attuale leader in discurso del mondiale di Formula 1 che va per il sesto titolo mondiale e terzo a 7 decimi e 63 millesimi quindi un piccolo scarto fra i due rivali Vettel e Hamilton Leclerc che si mette quindi dietro 9 titoli mondiali per quanto riguarda Hamilton comunque ci sono stati un po' anche degli screzi nella Q3 con il suo compagno di squadra infatti hanno spiattellato entrambi la gomma per diciamo per fare un tic tac, un attendismo per partire prima, partire dopo iniziare il tempo prima e iniziare il tempo dopo Max Verstappen è quinto a un secondo e 171 millesimi ed è preceduto da Walteri Bottas che invece partirà a quarto a fianco del compito di squadra 8 decimi e 96 millesimi a seguire da Verstappen il duo della Renault con Ricciardo e poi Hülkenberg comunque entrambi mi sembra debbano partire dal fondo Raikkonen ottavo quindi teoricamente dovrebbe partire dal sesto il corridore della Alfa Romeo Racing con il povero Giovinazzi che è stato sfortunato perché la macchina non gli è funzionata più nella Q2 e purtroppo è andato poi Magnussen, poi Perez nono e Magnussen decimo a completare la top 10 naturalmente provvisoria non saranno queste le posizioni perché ci sono mi pare le Renault che partiranno dal fondo dal fondo se non dico bagianate poi partirà dal fondo anche Alexander Albon a causa di un Alexander Albon scusate sbaglio col terzino del Liverpool il neo pilota Red Bull partirà anche dal fondo non bene le Toro Rosso di Gasly e di Kiat che sono state entrambe eliminate in Q1 così come le de Williams e Carlo Sainz notizia di poco tempo fa il rinnovo di Sheko Perez per altre tre stagioni con la Forza India devo salutare Lorenzo il ragazzo che mi ha dato molte informazioni sulla partita di basket a livello di statistiche lo ringrazio in questo video della Formula 1 ragazzi mi raccomando Super Hype purtroppo la Mercedes va meglio nel passo gara rispetto alla Ferrari però ragazzi partiamo noi davanti domani domani l'onda rossa deve essere costante Sky Sport Formula 1, Sky Sport 1, streaming illegale come volete voi Carlo Vanzini, Marc Genè, Riccardo Kinkere dopo il post partita su Molerino Sport Channel per vedere chi sarà il vincitore di questo Gran Premio del Belgio 2019 io ragazzi vi saluto, vi invito di lasciare un like, di lasciare un commento, di condividere il video con tutti i vostri amici che sono appassionati di Formula 1 e soprattutto di seguire la pagina Instagram Morino Sport io ho concluso Paul Position per il predestinato Channel Club ciao ciao